La Castellettese ottiene la prima vittoria stagionale superando per 4-0 il Briga. Dopo soli 4 minuti si sblocca la situazione. Serau atterra Pettersking in area di rigore. Il signor Crudelli di Ivrea non ha dubbi ed indica il dischetto. Dagli 11 metri Casiraghi trasforma al 26esimo, arriva al raddoppio degli ospiti. Cross dalla delta di Casiraghi per Pettersking che trova la deviazione vincente. Al 38esimo Briga in 10. Miduni entra in ritardo su golfetto, il direttore di gala non ha esitazioni ed espelle l'esterno di casa. Al 40esimo arriva il 3-0 ospite con un gol splendido di Lov che dalla distanza fa partire un destro imparabile per l'appozzato. Al quarto ruolo della ripresa arriva il poker della Castellettese con una gemma di Casiraghi che supera l'appozzato con un preciso tiro a giro per il definitivo 4-0 ospite.